bella regà bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi oggi after patch per recuperare il beige dell'fbi quindi ci mettiamo in questo punto della mappa dove c'è l'attività dell'agente ulp e ci mettiamo al centro ragazzi dell'attività a questo punto apriamo il menu di pausa andiamo ragazzi su elenchi partite facciamo crea elenco partite gara stunt e ne mettiamo una a caso ragazzi questo è tipo della hot ring a questo punto una volta aggiunta clicchiamo b e facciamo salva elenco partite una volta che abbiamo fatto salva elenco partite ragazzi molto semplicemente torniamo indietro e una volta che siamo in questa posizione riapriamo il menu di pausa andiamo su elenchi partite i miei elenchi partite e andiamo su i a a ragazzi lo salvate così l'elenco che avete appena creato a questo punto quando siamo in questa schermata per avviarlo iniziamo a spammare freccia destra ragazzi e accettiamo l'allerta mentre spammiamo ancora freccia destra a questo punto ci aprirà la lobby che sarà la gara noi semplicemente andiamo su conferma impostazioni ragazzi e andiamo ad avviare la gara clicchiamo gioca e una volta che clicchiamo gioca ragazzi ci darà quest'altra schermata noi accettiamo tutto dopodiché ci catapulterà regà da tutta altra parte ci farà spawnare nell'attività dell'agente ulp e avremo il beige dell'fbi ragazzi al collo la iaa quindi a questo punto una volta che vi siete guardati il video e siete spawnati nella lobby dell'attività prendete un qualsiasi veicolo vi dirigete nel vostro appartamento non andate a vedere se Ammonation si apre raga perché non si apre quindi per forza in un appartamento qualcuno mi ha detto che funziona anche entrando nel CEO io mi ricordo dove c'ho l'Eclipse Tower ragazzi come ben sapete io sono svanito quindi entro all'interno dell'appartamento una volta che sono all'interno vado su dal camerino raga e mi salvo l'outfit una volta che ci siamo salvati l'outfit non ci resterà altro che quittare l'attività raga come tutte le altre volte aprendo il telefono facendo AXA se giocate da Xbox o X²X se giocate da PS e a questo punto quando spawniamo ci selezioniamo l'outfit che ci siamo salvati e svada bam raga avremo il beige dell'FBI io spero che questo video vi sia stato d'aiuto lasciate un like lasciate un commento supportate Xavix condividete e alla prossima, bella! Ciao! 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 Grazie a tutti.